Benissimo, siamo arrivati qui, riformattiamo il codice, andiamo a fare un refresh, abbiamo il nostro card. Ora vogliamo qui dare la possibilità che quando seleziono una card qui magari salta fuori le informazioni dettagliate. Per il momento ci accontenteremo di questo, quindi dobbiamo fare in maniera che quando clicco una card qui vedo le informazioni del mio gatto, in questo caso il mio gatto ma potevo avere anche dei cani, ma ho gatti quindi abbiamo un'app di gatti. Va bene, allora cosa dobbiamo fare? Innanzitutto qui dobbiamo mettere un qualcosa che mi dica che se io clicco la card praticamente faccia una funzione di click. Se andiamo a vedere sulla card, tra le varie property che abbiamo qui non ce n'è nessuna, tipo quella del bottone dell'on press e via dicendo. Quindi dobbiamo usare un altro widget, qui magari vi può tornare un po' strano, usare un widget per fare il click sull'intera card, ma dobbiamo brappare card perché noi vogliamo che sia tutta la card cliccabile, quindi brappa widget e il widget che andremo a usare per fare in modo che tutta la card sia cliccabile sarà gesture detector. Questo widget non fa cambiare nulla dal punto di vista dei layout, ma dà la possibilità nel on tap ad esempio di dare la possibilità di rendere tappabile l'intera card, quindi quando io cliccherò la card o qualunque posizione della card, lui fa questo gesture detector, quindi rileva il mio on tap e posso far eseguire una funzione. Al momento ci mettiamo un print on tap, andiamo a fare un refresh e adesso clicco, vedete? On tap, on tap, on tap, lo vedete qui sotto? Allora, e quindi abbiamo l'on tap, da qui, dall'on tap dobbiamo trasmettere su l'animale che è stato cliccato, quindi qui se mettessi anche dollaro pet.name e andiamo a fare un refresh, se io clicco simba, on tap simba, se clicco luna, on tap luna, se clicco posi, on tap posi, quindi vedete ogni tap posso selezionare il mio animale, ma in realtà devo trasmetterlo a chi poi fa selezionare l'artore. Ora, da qui, la prima cosa che facciamo è appunto definire la funzione che andremo a evocare, ma non qui dentro, ma da che mi ha chiamato, quindi da mypetslist. E' chiaro, no? Cioè io devo trasmettere all'home screen l'animale è selezionato, l'utente ha selezionato, quindi facciamo void, anzi facciamo final void function, questa funzione dovrà contenere il pet cliccato, e qui metteremo on selected, benissimo, ora dobbiamo passarla nel costruttore, nel costruttore preferisco metterla qui, e possiamo dire this.on selected pet, ma è required, perché noi vogliamo forzare quell'utente, cioè vogliamo forzare chi userà questo card, di definire anche l'on selected pet, a questo punto qui togliamo via questo codice, e devo fare on selected pet, pet. Benissimo, quindi qui adesso siamo a posto, vedete mi sta dando errore nel mypetslist, perché sto invocando il pet card senza indicargli qual è la funzione di evocare, però anche mypetslist non può gestire, perché mypetslist è soltanto questo pezzettino, invece noi dovremmo chiamare proprio l'honscreen, quindi che facciamo, prendiamo questa final function, la copiamo di sana pianta qui, andiamo a importare pet, anche qui metteremo il required on selected pet, benissimo, e quindi il pet card andremo a definire on selected pet, e quindi praticamente mypetslist è come se fosse un wrapper, lo ripassa sopra, infatti vedete, adesso ho l'errore sull'homescreen, l'homescreen, se adesso andiamo sull'homescreen, è di tipo stateless, cosa vogliamo fare? Che quando viene cliccato qui una funzione, mi faccia vedere un pannello di informazioni qua sotto, quindi la prima cosa che dobbiamo fare per far questo è trasformare questo widget da stateless a stateful, e clicchiamo la funzione e Android Studio lo fa per noi, quindi siamo passati da stateless a stateful, benissimo, ora cancelliamo pure questo, qui dobbiamo creare la nostra funzione, possiamo anche andarla a ricopiare, ovviamente qui non la passerà nessuno, ma qui praticamente prenderà il mio, il valore da questa funzione, e andrà a settare, anzi andiamo a farlo subito, quindi qui metteremo pet, in questo caso sarà un punto di domanda, perché o ci sarà, o sarà selezionato o non ci sarà, quindi selected e pet, e la inizializziamo in null, perché non c'è, andiamo a importare, benissimo, quindi selected pet, sì, e quindi abbiamo, la prima cosa che abbiamo fatto è definire la variabile, quindi adesso dobbiamo definire la nostra funzione, ora, non è sicuramente una function, benissimo, avremo il pet in ingresso, e qui, cosa dobbiamo fare, dovremo aggiornare qui, quindi, per aggiornare la variabile, come abbiamo visto l'altra volta, faremo set state, e metteremo selected pet, uguale pet, qui in realtà possiamo metterlo anche opzionale, ma in realtà è un'opzionale nullabile, scusate, perché possiamo definire nullabile, lo possiamo definire nullabile, perché magari possiamo anche dare la possibilità all'utente di deselezionare la card selezionata prima, benissimo, nel my pets, qui nell'on selected ci passiamo la funzione che abbiamo appena creato, quindi on selected pet, on selected pet, e quindi adesso avremo il selected pet, a questo punto, per vedere se effettivamente funziona, mettiamo un text, anzi, facciamo un operatore ternario, vediamo come l'ho chiamato, selected pet, allora, se selected pet è null, ci mettiamo un text, let's, please, select a pet, oppure, ci mettiamo un text, con, selected pet, punto name, qui possiamo metterci il punto esclamativo, perché stiamo controllando che siamo sicuri, che selected pet non è nullabile, andiamo a fare un auto reload, please, select a pet, se clicco simba, simba, se clicco luna, luna, se clicco posi, posi, come vedete, ho dovuto fare, per questa semplice cosa, ho dovuto trasportare l'informazione da pet card, a my pet list, a home screen, queste sono le prime informazioni, ovviamente, vogliamo creare un po' più di informazioni, ma solo per, poi dovremmo utilizzarlo, ma non è questa la serata giusta, andiamo a creare un nuovo widget, che chiameremo infopet, infopet sarà un widget di tipo stateless, infopet, qui avremo final pet, pet, quindi sarà l'informazione di questo pet, andiamo a importare, qui, this.pet, lo mettiamo come positional, perché avremo per forza necessità di questo, e qui faremo un bel container, di larghezza, tavo.infinity, e come child, che ci mettiamo, ci mettiamo, un column, qui mettiamo, column, children, perfetto, allora qui ci mettiamo, le informazioni, quindi, quello che prima avevamo messo il text, col name, metteremo text, di pet.name, pet.name, si, ok, posi, poi andremo a mettere, il suo compleanno, birthday, vediamo, vediamo un po', perché dà errore dei time, che debia assign, ah, qui vedete, mi sta dicendo, text accetta una string, questo l'abbiamo visto l'altra volta, avevo detto che d'arte è tipo tape safe, quindi qui mi sta dicendo, guarda che il date time non posso convertirlo in string, quindi qui ci mettiamo al momento to string, guardate un po', se metto il to string, se adesso faccio un refresh, magari facciamo un hard refresh, benissimo, ovviamente, ah, è giusto, non l'abbiamo messo, lo andiamo a mettere, quindi non selected pet name, ma info pet, qui ci passiamo a pet, selected pet, col punto sclamativo, perché abbiamo fatto il controllo prima, andiamo a rivedere, ecco qui, la data, come vedete, non è proprio delle più eleganti, e quindi prima vi dicevo che avremmo usato un altro pacchetto, fermo subito, andiamo a vedere il nostro browser, insieme con l'uid, uno dei pacchetti che viene molto usato è l'intel, l'intel, eccolo qui, dice che viene usato per l'internetizzazione e localizzazione, una delle cose che fa è quello di formattare, eccola qua, la data, quindi andiamo a vedere di nuovo in installing, eccolo qui, flutter pub ad intel, ritorniamo nel nostro Android studio, andiamo nel terminale, e lo andiamo ad aggiungere, una volta aggiunto, andiamo a lanciare il nostro, il nostro app, questo lo cancelliamo nel frattempo, benissimo, ora, ritorniamo un attimo nel browser, e andiamo a vedere come si utilizza, se andiamo a vedere, prima l'avevamo visto, abbiamo visto qui, eccolo qua, bisogna importare il pacchetto, questo, quindi possiamo importarlo, e poi abbiamo date format, ora non farò tanti switch, andiamo qui, nel info pet, andiamo a fare questo import, ma l'abbiamo importato, ovviamente mi dice, guarda che devi formattare, e qui, che facciamo? Andiamo a crearci il formattatore, il formattatore lo creiamo qua, in questo modo, post, formatter, uguale, Intel ci dà la possibilità di fare un date format, tra i parametri che abbiamo qui, nel date format, c'è la stringa col pattern, quindi qui possiamo mettere, giorno, mese, e anno, a questo punto abbiamo il formatter, e quindi qui possiamo formare, formatter, aperta tonda, formatter, scusate, format, aperta tonda, e qui, togliamo via questo to string, magari si mette scritto format, 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 ok, adesso andiamo a fare, una, not reload, mi dice, ah, che mi dice che non, che non gli va bene, ah, dice di togliere via il const, certo, dobbiamo metterci un final, andiamo a fare lo load, andiamo a vedere, eccolo qui, adesso abbiamo la nostra applicazione, se scelgo Simba, ecco la data formattata, correttamente, benissimo, poi, oltre al, al compleanno, ci mettiamo anche, vabbè, mettiamoci anche, mettiamoci anche il gender, dai, quindi mettiamo questo, è vero, abbiamo copiato un po' troppo, ci mettiamo, gender, ora, se mettiamo gender, ci danno errore, perché, gender, se vi ricordate, prima andiamo a vederlo, è un enum, ma l'enum, tra le varie cose, che ci dà, la possibilità, è quello di avere, il name, se adesso salvo, e andiamo a rinfrescare, ecco, male, perché, perché per ogni elemento, del gender, ci dà delle property, delle function, che ci dà, ad esempio, il nome, proprio delle num, quindi, ho scelto, male, da male, altrimenti, se scelgo l'una, da female, ritorniamo, nella num screen, allora, abbiamo messo, l'app bar, abbiamo messo, l'add, a questo punto, quando clicchiamo, questo pulsante qui, che abbiamo visto prima, vogliamo, far apparire, una modale, un bottom sheet, si chiama così, che ci permette, di poter inserire, altri animali, ora, in questo momento, lo mettiamo qui, il bottone, in realtà, nell'app finale, non andrebbe qui, il bottone, però, per il momento, lo lasciamo qui, così vediamo, un po' assieme, come creare, questo drop down, questa modale, quindi, qui abbiamo già, la function, già, già pronta, andiamo a creare, una funzione, qui, una void, on, open, add, dialog, ora, questa sarà la funzione, anzi, l'andiamo a segnare, direttamente qui, on, open, app dialog, benissimo, in questa funzione, per aprire una modale, guardate un po', show, modal, button sheet, ok, quindi, show modal, button sheet, poi andremo a vedere, che cos'è un feature, ma, è, nel button sheet, nelle classi, button sheet, ci danno, questa funzione, che serve appunto, per aprire una modale, che adesso lo vedremo, a parire di sotto, come vedrete, come vedete, qui abbiamo il context, e qui abbiamo il builder, allora, a maggio, spesso, diciamo, vedete anche qui nel build, noi abbiamo necessità di un build contest, che cos'è il build contest? Il build context, è nient'altro, è un contesto, che contiene l'informazione relativa al widget, quindi contiene informazioni sull'interfaccia utente complessiva, nell'albero dei widget, quindi posso anche avere, più context, e, nel build, allora, qui possiamo lasciare context, perché? Perché possiamo lasciare context, vedete, qui non mi sta dando un errore, perché siamo all'interno, di uno stateful widget, e lo stateful widget, tra le varie cose che mette a disposizione, possiamo vedere qui, c'è ad esempio il context, oltre ad esserci state, e oltre c'è esserci cose, quindi, possiamo in maniera globale, in maniera globale, scusate, all'interno di questo widget, usare il context, usato, per gestire lo stato, e il layout, di questo widget, e il builder, qui, se andiamo a vedere l'intelligence, mi dice, posso usare questo tipo di invocazione, ora, mettendoci context qui, non si capisce, se ci sta riferendo, al context che viene passato, come parametro al builder, oppure, al contesto di disponibile a state, cosa facciamo in questi casi? Lo rinominiamo in ctx, e così abbiamo risolto i problemi, ora, qui, nel show model button sheet, dobbiamo, passare qualcosa, quindi, se io qui faccio un return, il builder di solito, si ritorna un widget, quindi qui posso fare un return, facciamo così, di un container, magari di altezza, diciamo, 150, e come child, text, ci mettiamo, dialog, e il punto e virgola, alla fine, e adesso andiamo a rinfrescare, e clicchiamo il più, eccolo qua, vedete, questo è, il modern button sheet, certo, è bruttino, adesso andremo a sistemare, ora, ormai, avete capito, tendo a non creare, più i componenti, o i widget, sempre in stesso interno, nello stesso file, ma tendo a separarli, in file diversi, quindi, creiamo, un nuovo widget, quindi sempre qui, e andremo a creare, il widget, add, ad pet, in questo momento, lo marchiamo come, stateless, add pet, quindi qui sarà, il nostro add pet, al momento, ci facciamo questo return, lo mettiamo qui, così, non abbiamo cambiato niente, e qui, cosa dobbiamo passare, dovremo fare un return, add pet, in questo modo, nel caso in cui, l'istruzione sia unica, e soprattutto sia un return, noi, possiamo usare, una arrow, e far così, in modo, che, sia più leggibile, e sia più, togliamo via anche il punto virgola, guardate, ecco qua, molto più semplice e conciso, qui posso metterci il const, perché in questo momento, è, uno stateless, quindi, se adesso, prendiamo, facciamo, un refresh, se adesso, premiamo il più, ci appare la dialog, andiamo a lavorare adesso, sull'add pet, che dobbiamo mettere, sull'add pet, dobbiamo mettere, tutte quelle informazioni, che, abbiamo visto, prima che abbiamo messo, nel nostro, nel nostro modello, no, quindi, dobbiamo, mettere, tutte quante quelle informazioni, quelle informazioni, come si metteranno, ad esempio, con un input, quindi qui, ad esempio, al posto del, del test, ci mettiamo, un text, ma, text field, questo dialog, non serve più, se andiamo a salvare, anzi, facciamo un'altra cosa, prima, facciamo width, double, infinity, dopodiché, facciamo, un refresh, eccolo qua, vedete, già è cambiato, e qui, non so se, potete apprezzarlo, andiamo a fare più, se clicco qui, nella casella di test, mi appare la tastiera, ora, non la possiamo apprezzare tanto, facciamo, mettiamo, 450, quando poi, potremo modificare, facciamo, reload, eccolo qui, e qui possiamo, scriverci, del testo, ora, dobbiamo però, catturare, quello che viene inserito, dall'utente, e come possiamo, catturare, ciò che inserisce, l'utente, da questo text bosca, allora, vi faccio vedere, un modo, che non è proprio, uno dei più eleganti, qui possiamo, catturare, l'onchanged, l'onchanged, ci dà, la possibilità, di definire, una funzione, dove, abbiamo il parametro, value, che è di tipo stringa, che sarà quello che inserisce, qui dentro, e qui fare una print, così, lo vediamo assieme, value, due punti, dollaro, mettiamo, value, perfetto, andiamo a vedere, facciamo, una, refresh, adesso, se qui scrivo, vedete, qui, c'è, adesso, purtroppo, sta scrollando, ma, ogni volta, che premo un tasto, eccolo qua, c'è il valore, questo, è un modo, quindi, potreste definire, una variabile, quindi, già che stiamo definendo, una variabile, che cambierà, capite con me, convenite con me, che questo, dobbiamo convertirlo, in uno stateful widget, quindi, qui, dobbiamo creare, un final string, anzi, non sarà, un final string, perché, cambierà valore, quindi, una stringa, dove metteremo, eh, pet name, uguale, così, questo, può essere un modo, non è il modo, che andremo a usare, questa sera, perché ce n'è uno, pelino, eh, migliore, ed è quello, di usare, il, text editing controller, quindi, eliminiamo questa variabile, text, text editing controller, qui lo chiameremo, pet name controller, uguale, text editing controller, cosa fa, questa classe, non fa nient'altro, che fare, il gestore, del text field, come lo facciamo, ad associare, al text field, andiamo qui, togliamo via questa cosa, e qui, ci metteremo, eh, controller, eccolo qui, due punti, ho scritto per, name, pet name, pet, name controller, allora, il pet name controller, ci dà, parecchie, funzionalità, come, come, ad esempio, ci darà, il valore, immesso dall'utente, in questo text field, qui, oltre a metterci, il controller, ci mettiamo, al max length, perché, supponiamo, di avere, una massima lunghezza, del testo, di, 50 caratteri, e, infine, vogliamo, metterci anche, un'etichetta, quindi, mettiamo, decoration, anzi, facciamo così, input decoration, l'input decoration, serve per decorare, questo text field, tra le varie, property, che abbiamo qui, c'è la label, e qui, possiamo, scrivere, pet name, se andiamo a fare, una reload, eccolo qui, abbiamo, 0,50, che determina, quante lettere, sono state, cliccate, vedete che, incrementa, il pet name, che c'è questo effetto, che viene spostato su, questo tipico di material, e, abbiamo il nostro, pinbo text field, il pet name controller, gestirà, quello che viene inserito, qui dentro, il secondo campo, che, anzi, prima di andare avanti, con gli altri, facciamo così, andiamo ad aggiungerci, un pulsante, e, diciamo, di, smith, quindi, siamo nel container, ovviamente, soltanto text field, dovremo andare a fare, un wrap, con le column, in maniera tale, che, possiamo mettere, più text field, magari qui, ci mettiamo, un sized box, in altezza, magari, facciamo, 30, per il momento, facciamo così, poi andremo, a cambiare, ok, così l'abbiamo, un po' più sotto, benissimo, a questo punto, qui, dopo il text field, andiamo, a creare, un bottone, che chiameremo, elevated button, in questo momento, facciamo così, e, come text, ci mettiamo, save, quindi, sarà il pulsante, di salvataggio, nell'on press, andiamo a stamparci, quello, che ci dà, il pet name controller, quindi, se io scrivo, pet name controller, punto, text, sarà, il valore, che è stato digitato, dall'utente, salviamo il tutto, facciamo, un altro load, ora, qui, se andiamo, anzi, facciamo un altro load, benissimo, se adesso facciamo più, appare il pulsante save, se qui ci scrivo, qualche cosa, e poi, premo, save, ecco qui, abbiamo, il nostro valore, inserito, quindi, qui se metto, ad esempio, sansone, a parte quanti, i log, e faccio save, ecco qui, sansone, è il nostro valore, che è stato inserito, ovviamente, ci serve anche, la possibilità di chiudere, è vero che, se io chiudo, da un'altra parte, fuori dal, da questo, da questa modale, si chiude, ma sarebbe carino, metterci un pulsante, qui, quindi, andiamo a copiarci, questo save, eccolo qui, facciamo, ovviamente, il print, qui, non ci sarà, e ci aspettiamo, che cosa, che ha, qui intanto, non ci piace, in questo modo, dobbiamo metterlo, in una row, facciamo, un refresh, ecco il cancel, save, e magari, li vorremmo allineati, tutti quanti, a destra, quindi, main access alignment, end, benissimo, così, sono, magari, li spazziamo pure un po', siamo 10, andiamo a vedere, perfetto, sono un po', sono un po' spaziati, non è ancora il layout definitivo, però, diciamo che, inizia a prenderci forma, ora, un altro elemento, che dobbiamo aggiungere, è, il compleanno, quindi, per aggiungere il compleanno, però, dobbiamo fare, un po' di, di cose, andiamo, ad aggiungerci qui, text, select, birthday, anzi, select, birthday, quindi adesso, dovremmo vedere, eccolo qui, select birthday, e per fare la selezione, di questo, del birthday, dobbiamo aggiungerci, un pulsante, facciamo un icon button, adesso vi faccio vedere, qual è la mia intenzione, ci mettiamo l'icona, quindi, facciamo un icon, di icons, punto, calendar month, calendar month, ok, ecco qua, andiamo, a fare, una piccola, ecco, vedete, quindi, cliccando questo pulsante, questo icon button, apparire, faremo aprire il calendario, intanto, sistemiamo un altro, e lo vogliamo, su un'unica riga, quindi, benissimo, andiamo a vedere, ottimo, quindi abbiamo, questo icon button, nella funzione, di icon button, definiamola, andiamo qui, e facciamo un select, select, birdie, andiamo a definirla così, e qui, la andiamo a invocare, ora, come facciamo aprire, il calendario, abbiamo questo pulsante, quindi, quando cliccheremo questo pulsante, andrà a invocare questa funzione, per far vedere il calendario, dobbiamo fare, show, date picker, come vedete, anche questo widget, gli serve il context, ma, siamo in un stateful, quindi ce l'ha già, qui dobbiamo definire, la prima data, disponibile, di visualizzazione del calendario, e l'ultima data, che deve essere possibile, selezionare, l'ultima data, ovviamente, sarà oggi, e, animali che nascono nel futuro, ancora, non ce li abbiamo, quindi, andiamo a crearci, tanto, il primo, la prima data, quindi, now, uguale, date, time, punto, now, date, time, punto, now, ed è la data di oggi, dopodiché, dobbiamo dire, vabbè, per le state, now, dobbiamo dire, la first date, ora, per definire, la prima data, utile del compleanno, diciamo, che prendiamo la data di oggi, ci sottraiamo, cent'anni, non credo, che ci siano animali, che possono, vivere più di cent'anni, comunque, eventualmente, possiamo, impostarlo, quindi facciamo, first date, è uguale, a, date time, now, punto, year, meno, dopodiché, il mese, metteremo, primo, e il giorno, uno, ecco qua, quindi, inizieremo dal primo, gennaio, di la data di adesso, dell'anno di adesso, meno 100, e quindi avremo, il first date, andiamo a vedere, intanto, che succede, clicchiamo il pulsante, ecco il calendario, e qui posso, vedete, posso scegliere, una data, voglio scegliere, l'anno 2011, ecco, sto scegliendo, l'anno 2011, voglio andare avanti, di mese, eccolo qui, benissimo, ma, per salvare, la data, che l'utente, ha selezionato, allora, intanto, andiamo a creare, qui, una nuova variabile, che chiameremo, date, time, e andremo, potrà essere annullabile, perché non è detto, che l'utente selezioni, birth date, e questo, è, la nostra, data, quando, l'utente, chiude, questo, questo, date picker, dobbiamo fare in modo, di salvare, questo, la data del compleanno, ora, se andiamo a vedere, questo, show date picker, andiamo a vederlo, eccolo qui, vedete, dice, che ci dirà, di ritorno, feature, di date time, punto di domanda, ora, stasera, non affronteremo, molto, le feature, ma è, paragonandolo, ad esempio, in javascript, che forse, ci torna utile, e la feature, sarebbe, ad esempio, la promise, quindi, è un valore, che ci si aspetta, ad esempio, se fosse una chiamata, di back end, noi, facciamo la richiamata, di back end, quando, ci ritorna, la risposta, quella sarebbe, la feature, della risposta, e quindi, come facciamo, però, a gestire, il feature, in questo caso, allora, tanto, se vado qui, faccio punto, abbiamo, il metodo, ven, non vi ricorda, le promise, ok, ora, in realtà, quello che noi possiamo fare, è, marcare, questa function, di tipo, asincrona, e qui, dire, che, la data, selected, birthday, o selected date, birthday, birthday, è uguale, alla weight, di show date picker, quindi, per avere, il valore, questa variabile, si aspetta, che questo, abbia concluso, quando è che ha concluso, questa l'operazione, quindi, che dà una risposta, quando l'utente, chiude, questa, modale, con ok, con un cancel, non è problema, perché questo, dà, un feature, di daytime, punto di domanda, quindi, se, il birthday, 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 è, selezionato, avremo, il valore, altrimenti, sarà null, e quindi, come facciamo, a settarlo, qui, alla data, facciamo, un bel set state, e faremo, birthday, uguale, selected birthday, facciamo, un'ulteriore, miglioria, qui, avevamo, il testo, select birthday, ma, possiamo andare a fare, birthday, uguale, a null, ci mettiamo, il select birthday, altrimenti, ci mettiamo, il text, della data, e ovviamente, qui, dovremmo fare, il formatter, no? dobbiamo metterci, il formatatore, come avevamo messo, eh, nell'info screen, andiamo a prenderci, l'info pet, andiamo a prenderci, il formattatore, mettiamo qua, e quindi, qui, nel, me lo sono perso, eccolo qui, facciamo, formatter, punto format, e la nostra data, in modo tale, che, se io ho selezionato, la data, mi farà vedere, direttamente qui, non trovo, date form, che devo andarlo, a importare, eccolo qua, andiamo a rinfrescare, ora, se andiamo a selezionare, una data, eccola qua, la cambio, eccola qua, e quindi abbiamo fatto, la data, e abbiamo sistemato la data, poi andremo a fare, controlli di validazione, dopo la data, e abbiamo, praticamente, dobbiamo scegliere, il tipo di animale, e il suo sesso, come si fa, tanto, formattiamo un po' il codice, vediamo, se si legge un pelino meglio, sì, qui ci mettiamo una virgola, anche qui ci mettiamo una virgola, così, riformata, benissimo, ottimo, allora, siamo qui, questi sono i pulsanti, benissimo, abbiamo fatto, select, date, dobbiamo fare, la selezione, praticamente, del, facciamo prima, e del tipo di animale, e poi facciamo il sesso,